Oh, un'altra volta la stessa commedia, un'altra volta sbalpendo la coccia, adesso si dice per cantare il reggito, ma perché non venite direttamente da me? E bravo papà Max, e diglielo a Pessy che ti vuoi venire qui a comprare i regali? Oddio, oddio, e ma chi è che ha parlato? Ehi, quando sei giugno, sono sempre io, l'elfo mi ricuccio, il tuo Natalia te le legno è a portata di saccoccia, ma allora ti elfo mi ricuccio! Venite alla mia apoteca a conoscere l'elfo mi ricuccio, è una nuova idea regalo per i più piccini e vi farà tanto divertire! Mi aspettano erosi!